Tre illustri cittadini, l'industriale Nova, il generale Lobianco e il giornalista Bruno. La scomparsa di tre illustri concittadini. Nei mesi di dicembre e gennaio hanno segnato tralutti cittadini per la scomparsa di illustri personaggi che ciascuno in diversi campi di attività erano stati protagonisti di eventi di Legnano. Al mattino del 23 gennaio 2006, una emorologia cerebrale ha colto nel sonno l'imprenditore Oscar Nova, ponendo fine ad una vita laboriosa e intensa svolta anche in attività sociali nell'ambito di istituzioni cittadine. Con il fratello Renzo conduceva l'azienda fondata nel 1928 dal padre Antonio, specializzata nella produzione di stampi per la lavorazione di gomme e plastica, nonché macchine per suole e calzature in genere. Nel 1971 le officine Nova, pur mantenendo la sede a Legnano, avevano aperto a Vigevano la Omnia Stampi e un anno dopo la Plastimatic Renos, ridimensionando di recente l'attività. Oscar Nova aveva 83 anni e tre mesi prima della sua scomparsa aveva avuto il dolore della perdita della cara moglie bianca. Uomo serio, leale, generoso e di grandi virtù umane, era stato vicepresidente dell'Associazione della ALI, presidente degli industriali del settore meccanico. Sostenitore e animatore dell'Associazione per Riti Industriali, nel 1995 ne era stato disegnato presidente onorario. ricevendo anche dallo stesso sodalizio il premio Fabio Vignati. Nell'anno sociale 1978-79 aveva presieduto il Lions Club Legnano Ost. La famiglia legnanese nel 1985 aveva voluto accomunare Oscar Nova a fratello Renzo per conferire loro la tessera d'oro dell'Associazione per le loro benemerenze di imprenditori e di animatori di tante iniziative sociali benefiche. Un altro anziano personaggio legnanese ci ha lasciati nei primi giorni di gennaio 2006, il generale Giovanni Maria Lobianco. aveva presieduto per vent'anni, dal 1976 al 1996, l'Associarma, portandola alla piena efficienza, ma operando anche al servizio anche di altre istituzioni cittadine. Era nato a Palermo nel 1920 e dopo l'Accademia Militare intraprese una brillante carriera. Aveva combattuto dapprima in Jugoslavia durante la Seconda Guerra Mondiale, rientrando in Italia nel 1945, dopo una drammatica parentesi come prigioniero in Germania. Nel 1949 ebbe un prestigioso incarico a Pordenone per rifondare l'Ottavo Reggimento Bersaglieri. Nel 1966 approdò a Legnano come comandante del secondo battaglione Bersaglieri alla Caserma Cadorna. Qui si era fatto subito apprezzare per la sua intraprendenza e per la carica di umanità e simpatia che in ogni occasione sapeva esprimere. Terminata la carriera militare come generale di divisione, fu chiamato a presiedere l'Associarma e quando volle lasciare ad altri questo incarico fu nominato presidente onorario. Negli anni 70 fu consigliere della famiglia legnanese, collaborando attivamente anche in questo sodelizio, a quale aveva voluto donare la bandiera italiana che tuttora figura nella sede. Un lutto assegnato anche al giornalismo legnanese. Il cuore generoso e sensibile di Giuseppe Bruno ha cessato di battere la notte del 16 dicembre 2006, quando si era reso conto che nulla avrebbe potuto arrestare il male che lo aveva colpito. Il decano dei giornalisti di Legnano, da pochi anni non più in attività, aveva voluto isolarsi, amorevolmente assistito dalla sua Rosalba ed essere così ricordato da tutti sereno ed efficiente nonostante i suoi 81 anni. Poco più che ventenne, dopo una breve esperienza giornalistica al quotidiano di Lecce, la sua città di origine, si trasferì a Legnano, cominciando a fare cronaca nei settimanali dei locali Gazzetta dell'Olonia e Giornale di Legnano. Bruno era stato corrispondente del Corriere Lombardo, dello Stadio di Bologna e del Corriere dello Sport, seguendo le vicende calcistiche della squadra Lilla e appassionandosi al punto di fondare e dirigere, nel 1950, il quindicinale Lilla Sport, che sarà distribuito allo stadio legnanese per 30 anni. Nel 1956 esce a Milano il quotidiano Il Giorno e Brunone divenne operativo per la cronaca locale, svolgendo il suo lavoro con serietà ed edizione da grande professionista. Nel frattempo, 1961, si era iscritto all'ordine dei giornalisti e aveva assunto la corrispondenza di zona dell'agenzia ANSA. Grazie a tutti!